L'associazione sportiva dilettantistica Veloclub Sommese e la nota azienda Secondo Mona di Somma Lombardo propongono un grande evento ciclistico, il trofeo Secondo Mona, tappa finale del giro della provincia di Barese Master. L'appuntamento è per l'8 maggio. Sulla scia del campionato italiano dello scorso anno con l'azienda Secondo Mona continuiamo con la tappa finale del giro della provincia Master e quest'anno saremo a Volandia, una location stupenda per far conoscere sia il territorio che tutto quello che c'è di bello a Somma Lombardo. La gara si rivolge ai Master che sono una categoria da 18 anni fino all'infinito in pratica e questo arrivano da tutta Lombardia, Piemonte, Veneto e sono nelle categorie diverse due gare. Il percorso si parte da Volandia, si va a Vizzola, da Vizzola c'è la salita, il pezzo di salita, si ritorna, si va a Lonate Pozzolo e si rientra sulla strada provinciale con l'arrivo a Volandia. Come detto prima è una location che è stupenda, grazie alla Secondo Mona anche quest'anno riusciamo a dare dello spettacolo allo sport. Un altro appuntamento con lo sport e soprattutto con il Velo Club Sommese che abbiamo affiancato già l'anno scorso in occasione dei campionati italiani Master che si sono svolti proprio qui a Somma. È stata una bella esperienza per noi e so anche un'esperienza di grande successo per il Velo Club e per la città. Se non sbaglio è stata premiata come miglior gara dell'anno. Quindi il Cavalier Pezzotta ha organizzato quest'anno un'altra bella occasione che abbiamo deciso di affiancare. In più ci ha fatto anche la sorpresa di organizzare la partenza e l'arrivo a Volandia, quindi il Museo del Volo della provincia di Varese, nei locali, nella sede della storica Caproni di Vizzola Ticino, che ci fa molto piacere perché abbiamo anche un forte legame con Volandia e con tutta la storia aeronautica. Grazie a tutti!